che nel Lazio noi abbiamo governato in questi dieci anni e fatemelo dire nel capitolo Orgoglio PD che Nicola Zingaretti ha governato bene nel Lazio e che il Lazio di oggi il Lazio di oggi è una regione migliore del Lazio di dieci anni fa e lo si è visto anche durante la pandemia quando il lavoro peraltro coordinato da Alessio D'Amato insieme a Nicola Zingaretti ha fatto del Lazio uno dei punti di eccellenza nazionali sul tema sanitario e sul tema delle vaccinazioni lo dico questo perché noi dobbiamo essere più orgogliosi di quello che siamo di quello che abbiamo rappresentato in questi anni ed è il fatto che nel Lazio noi dobbiamo dire ai cittadini laziali non tornate indietro